Sembra che Riccardo Pagano vada direttamente al Catanzaro. Per l'agazzo, anno 2004, della Roma, nelle prossime ore di tempo dovrebbe andare a sciogliere gli ultimi nodi al pettine e sbrigare gli ultimi affari di tipo burocratico per andare poi a far sì che avvenga il relativo trasferimento. Intanto però vi informo che l'Empoli ha ufficializzato il ritorno di Mattia Vitti, difensore che arriva in prestito con il relativo diritto di riscatto proprio da Nizza, club francese di eccellenza, o meglio qui di eccellenza. Nel Catanzaro arriva Davide Riccardo Pagano, classe 2004. Nell'Empoli ritorna invece di grande Mattia Vitti che è già stato giocatore ma vi ricordo che è un difensore che arriva in prestito con il diritto di riscatto da Nizza, club francese di rilevante importanza. Grazie a tutti, il video termina qua. Un abbraccio a voi tutti.